Benvenuti al programma di installazione di Broken Sword. In qualunque momento vogliate interrompere la procedura, premete F3. Ora verrà eseguito un test di sistema per verificare le prestazioni ottimali del vostro computer. Se il computer dovesse bloccarsi, siete pregati di riavviarlo e di rilanciare l'installazione. Il programma rileverà automaticamente di dover provare un altro tipo di configurazione. La velocità complessiva del sistema è ora in fase di analisi. Viene consigliata l'alta risoluzione per la riproduzione delle sequenze video. Digitate la lettera dell'unità di destinazione e premete Invio. Per installare Broken Sword in una directory diversa da quella indicata, potete modificare il percorso di destinazione. Selezionate il livello di installazione. Prego, confermare la vostra scelta. Se uno o qualsiasi di questi parametri non fosse corretto, premete il tasto ESC. Copia dei file. 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 Copia dei file.